Sono 11 i romagnoli che andranno alle Olimpiadi di Rio, ma fra questi 11 nomi che spicca c'è ovviamente quello di Margherita Magnani, non che lei abbia possibilità concrete di poter strappare una medaglia nei 1500, purtroppo la concorrenza è davvero agguerrita e di maggiore qualità, ma spicca perché è la prima Cesenate in assoluto a partecipare alle Olimpiadi. Una carriera, quella di Margherita Magnani che è iniziata molti anni fa, poi passata alle fiamme gialle quando ha cominciato a concretizzare i primi risultati con il campionato italiano negli 800 metri, poi l'avventura nei 1500 dove è riuscita comunque a dare diverse garanzie per quel che riguarda i tempi che poteva eventualmente strappare e la FIDAL l'ha premiata, l'ha premiata visto il costante miglioramento e vista la possibilità di non poter comunque, di non dover comunque fare una magra figura alle Olimpiadi di Rio e allora complimenti naturalmente a Margherita Magnani.